vediamo se ci muoio oppure no una somogenea ce l'abbiamo in quel coraggio mi sa che uno è sopra sopra occhio a di saluta brazza capri ma crede del divano non c'è nessuno perché ivan mi insegna che dietro il divano non sei immortale però ne ho visto uno dove c'è lo scudo se esce è morto se esce è morto madonna un euro nello sgabuzzino tranquillo rio un arrivava da sotto guarda lì io ti faccio il pro player tu mi ammazzis lo stadio